Domenica entreremo in zona gialla, i dati che oggi ho comunicato sono legati a un R-T che scende da 0,76 a 0,68, quindi abbiamo un ulteriore calo importante della nostra regione che testimonia che i sacrifici fatti sono sacrifici che hanno portato a un risultato, ma essendo sacrifici non dobbiamo sprecarli. Allora Domenica si guarda con favore alla possibilità che molte attività commerciali, bar, ristoranti potranno riaprire, tutti dovranno riaprire nel rispetto di linee guida molto rigorose e soprattutto però spetterà ciascuno di noi usufruire di questi servizi in modo intelligente nel rispetto del distanziamento, perché solo così potremo davvero riaprire tutti, ma soprattutto riaprire per sempre.